Ciao, io sono Claudio, ho 27 anni e faccio il Zumbato. Faccio parte del Meetup dei Grilli dello Stretto dal 2013. Il Meetup cos'è? Il Meetup è un gruppo di persone che lotta, che fa delle grosse battaglie per cercare di cambiare questa città, per far sì che tanti altri ragazzi, come è già successo in passato, non debbano scappare. Il 25 aprile per il Meetup è un appuntamento molto importante, perché compie 10 anni, 10 anni di battaglia in questa città, tutti insieme con forza ed energia. Seggeremo questo grande traguardo tutti insieme il 25 aprile alle 19 all'Officina, in Via Croce Rossa. Insieme a noi ci saranno tanti portavoce, ci sarà Luigi Di Maio, Valentina Zaffarana, Francesco Duve e tanti altri portavoce che insieme a noi hanno portato avanti delle grosse battaglie. È un'occasione importante per conoscerci, ti aspettiamo! Grazie a tutti!